Garzelli D'Ambrosio, siete i vincitori di questa edizione 2017 del Gold Knight. Siete entrati in campo un po' timorosi, avete perso un brutto primo set, poi però tranne un piccolo calo nel secondo avete giocato una partita perfetta. Sì, siamo entrati in campo un po' contratti, un po' tesi, siamo andati subito sotto. Poi comunque loro hanno giocato molto bene, soprattutto all'inizio. Siamo stati bravi a non disunirci, anche avendo giocato male il primo set, siamo rimasti uniti, nel secondo set siamo cresciuti, abbiamo vinto un set lottato. Poi nel terzo siamo saliti di livello, eravamo anche più tranquilli, più sciolti e abbiamo espresso un miglior tennis e per fortuna abbiamo iniziato. È bellissimo, poi con tutta questa gente, con tutti i miei amici, è stato davvero due settimane fantastiche. E poi mi hanno aiutato due amici che non ci sono più, Pier Vito, e Figas, questa vittoria è loro, perché questi sono i loro campi. Qua giocavo con loro e quindi si è visto che in qualche mio volè, in qualche mio palonetto c'era il loro aiuto. Per la settimana, anzi per le due settimane abbiamo fatto insieme, perché mi sono divertito veramente tanto a giocare con lui. Sono contento che l'abbiamo vinto, perché ci tenevo a vincere questo torneo con Diego.